Il nostro paese è in continua evoluzione. Cambia il nostro modo di muoverci e di condividere. Cambia il nostro modo di immaginare e di sognare. Noi di Estra siamo parte di questo cambiamento, al fianco di chi sa accettare le sfide e affrontarle con coraggio. Presenti nella vita delle persone con energia, rispetto e attenzione per le cose che contano davvero. Vicini, oggi più che mai, a quei luoghi che ci hanno visto nascere e crescere, per trovare nuove risposte, per accogliere questo presente e tracciare insieme gli orizzonti del nostro domani.